multi del 5 stelle per favore let's go 75 si 76 76 lo voleva okram ho detto quello voleva la chiamata sono proprio lui sentiamo che delle armi molti fortunata assolutamente d'accordo e quindi quindi 15 no non siamo arrivati alla 69 e io non guardo bene meglio perché anche se dovessi per casa andare male bene calmo la petta eravamo a 50 51 questa 51 ok 52 io non sto guardando 53 ti avviso io quando quando c'è il 5 stelle 54 55 io ti prenderei a schiaffi questo momento a schiaffone ma io ragazzi ma questo se l'è chiamato da ieri sera andiamo a 40 eh ma non ha laggato però va bene finché appiti basso va benissimo non ha laggato quindi non penso sia lei però però ragazzi però anche se non dovesse essere lei appito così basso ci va bene lo stesso dai proviamo però allora questo ragazzi era 21 perché andavamo a 40 scusa quindi questo è 31 31 32 33 34 e infatti non aveva laggato era chiaro però a pd 34 sinceramente io prenderei tutto pd 50 laggato city 50 laggato e lei e lei early pt di nuovo e lei ieri a early pt dai raga top multi questo è 41 42 che sia il pt gatti 43 vediamo 44 no però potrebbe essere anche il nostro pt Valentino Rossi, sto facendo anche MotoGP 45 io vi giuro se è 46 non ci credo parla a vola del sorpasso parla a vola del sorpasso Piti 46 no, spegnete tutto ok qua no, non così però fanculo no, non si esce alla 64 non si esce alla 64 ok, Piti 20 sì, 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 sì top allora, o bene bene o male male in realtà bene bene sempre, perché anche se è persa chi cazzo se ne frega perché ci prendiamo l'arma dopo quindi raga, è benissimo a prescindere è benissimo a prescindere, in un modo o nell'altro è un GG, perché questa singola è la singola 11, quindi entro 20 abbiamo appunto trovato comunque l'arma eh, che babbo 13 14 15 sì Piti 15 Piti 15 ce l'abbiamo Piti 15 dai top raga è fatta Piti 15 dopo aver preso l'arma di Linei che a sto punto GG praticamente in un Piti e poco più si è preso tutte e due le armi che comunque l'arma di Linei è buonissima quindi a sto punto meglio di quando appunto ti trovi accanto delle cose orribili che non vuoi prendere tipo la Primordial DJ di Xiao GG proprio GG possiamo tenerci soddisfattissimi c'è anche un Eye of Perception uno due nooo non ci vedo ragazzi visto perché dovete venire a far pullare me in live so, so, grazie per il follow su TikTok ecco qua cosa succede quando fate pullare me no ragazzi no no ragazzi è il primo triplo 5 stelle del canale non ci credo cosa cosa ho appena fatto cos'è appena successo ci siamo ci siamo via let's go multi del 5 stelle comunque vada raga è un successo comunque vada è un successo perché non è solo no ragazzi se c'è il doppio anche qua ok vabbè ci sei Linette no 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 raga no 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 raga no no raga non è non è non è possibile ragazzi non è possibile io ve lo giuro ragazzi non so cosa sta succedendo oggi io non so cosa sta succedendo veramente smettendo la tivisa che è stato disinstallando via si riparte pt4 andiamo a pt14 let's go io ragazzi io ragazzi io non so che fare ragazzi non so che fare mi dispiace mi dispiace io non so che fare che devo fare non pullo più non pullo più ragazzi non lo faccio apposta ma lei non pullo più che devo fare magari è perso guanta grazie per il follow dai va bene ora ora l'abbiamo dai ora è perso bonus dai forza questo era 5 6 7 bello visit è sempre utile 8 9 10 una pull 11 12 vabbè per forza va benissimo 13 che è meglio 1 e 2 va bene pt11 easy easy questa è la multia 5 stelle questa qua ora torna tutto eccoci qua nel caso che si libera un posto lo sono volontaria come come moderatrice hammer vediamo pt75 76 77 eccoci qua mi ringrazio per il follow molte del 5 stelle olè ci siamo ok ha vinto il no 75 76 77 78 79 80 50 non ha l'aggaso però prima del pt dai non ha l'aggaso allora l'ho vi oddio oddio l'ho vista diversa l'ho vista cioè erro io quando ho cliccato ho percepito che era la multia 5 stelle quindi però non ha fatto un lag netto però io lo sapevo che era la multia 5 stelle quando ho cliccato forse era sempre lag però meno meno evidente perché io ho visto cioè quando ho cliccato ho detto qui c'è il 5 stelle però non ha l'aggaso quindi non so non so come lo usarla Federico grazie per il follow non so come lo usarla vabbè comunque early perché questo è 41 quindi in un modo o nell'altro lasci zero ce la portiamo a casa veloce perché poi adesso si riparte nel caso vabbè speriamo bene 41 42 43 44 45 finetta sì Alice mi sento così 46 47 48 oddio un fondo 49 non aveva laggato raga non aveva laggato ho percepito c'era 5 stelle ma non aveva laggato moglie dai please vieni con i bambini in cantina eh viene per forza eccola i bambini in cantina che fai come fa a dirti appunto no i miei figli 75 quindi 76 77 78 oh dove sono i miei figli eccola qua 78 da 3 ora c'è stata la preghiera non ci credo non ci credo no 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 morta morta la blasfemia la blasfemia la cireta succede che please dai per favore vieni a Navos 75 75 76 77 78 ma cazzo sta 79 siiii siiii c1 vieni 79 bene proviamo 77 ci siamo subito ecco allora 68 69 una prociona 70 71 72 vediamo quasi 73 74 75 75 75 ci siamo soft 76 ultima 77 abbiamo mmm madre di dios questo è pesaglio basta si va 81 dov'è quella donna eccola qua l'abbiamo fatta ma che aveva questo punto eh sì 5 ore dopo 5 ore dopo eccoci qua 74 75 sempre fino là 76 pure questo 76 buono eh 78 l'ultimo dov'è dai 79 80 siiii se devo se devo sperare il doppio gli auguro doppio arlecchino anni giusto giusto è vero anni che si doppio 5 stelle in multi doppio 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 abbiamo visto cose incredibili i giorni scorsi è vero dov'è dove sta però se esce a fine multi non può essere doppio eh infatti no così mi stai su coglioni quando deve essere doppio deve essere a 75 perché dov'è 80 anche qui 81 82 wow mamma mia stasignora eh sì si parla diglielo Federica diglielo diglielo in terrenese mamma mia stasignora diglielo diglielo 2 con la spalla di attack on titan e 5 stessi esatto 22 oddio 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 no ma dai andiamo a 24 e qui nel mezzo c'è il p di 22 22 22 oddio 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 allora allora sei già iniziato sei già te Federica hai veramente rotto il cazzo allora io sono zen stai zitta Federica stai zitta allora fai silenzio allora adesso tanto il destino è ormai è già fatta ok il destino 15 15 15 15 16 16 17 eccola eccetera eccetera ma tutte le volte tutte le volte andiamo a piti 30 30 col 22 in mezzo vediamo col 22 in mezzo 22 appunto non ci credo non è vero ora speriamo sia una bella skyward pride speriamo sia una bella skyward pride no guarda la spine così la refa in 5 no 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 pride la pride vogliamo la pride ce l'ho refa in 2 ne vogliamo un'altra refa in 3 della pride dov'è? porca dov'è? non è reale tutto questo 24 25 26 ecco la pride mamma mia 4 volte sempre sarlecchino e l'arpa che ho detto io? una multi e poi devo rendere la commessa come si fa? come si fa? da qui ok siamo rimaste soltanto io e Eliana purtroppo Federica gli è caduta la connessione è un incidente succede speriamo torni presto connessa con noi purtroppo è crashata cose che capitano mi hanno detto cose che capitano ci sono problemi sulla linea di Torino chi è da Torino a casa conferma? conferma ci sono problemi sulla linea? Fabio Fabio confermi? al 20 al 20 ci si riuscirà ad andare oltre? chissà andiamo intanto andiamo a Pt20 non è vero no non è vero allora io non lo sto facendo grazie grazie sulla linea di Torino ci sono problemi gravissimi io non capisco come si possa fare a pullare così ma questa viene a pullare in live con queste condizioni tecniche nei dintorni? io non ho sentito i Discord non sento cosa vuoi Federica io comunque non ti porto più a pullare qua se appunto ogni volta che tiriamo le multi crash cioè capisci che mi stai facendo fare un lavoro qualitativamente pessimo e sai quanto sono attenta alla qualità del mio lavoro Federica? è la prima volta da computer quindi non mi stai piacendo oggi oggi non mi stai piacendo questo crash costante sta rovinando la qualità della live e anche i goduri anche i miei spettatori provano di guardare le pull perché è tutto un crashare si stanno incazzando vero raga vi state incazzando? diteglielo allora Federica diteglielo guarda Ammer Ammer scrive malissimo puntini puntini vedi Ammer Ammer io lo faccio per te lo faccio per te sono tutti incazzati vedi Federica eeeh del resto quando uno combina ste cose va via dai figliamoci sta C1 andiamo andiamo forza questo era cos'è dodici dodici una pull tredici quattordici quindici sedici diciassette in fondo diciotto diciannove C1 diciannove scriverò alla betta è un intero di cara betta Federica l'ha combinato di nuovo cara betta sono sempre io Federica ha approvato lasci uno quante cinquanta da vincere? vediamo let's go click sembra che avessi rotto il mouse allora perché? hai fatto un click boom senti un casino su quel mouse non ho fatto niente click boom va bene ok ok 75 76 77 78 bella belline c 4 4 buono 79 80 e lei c2 80 esce sempre lei comunque eh 80 è sempre lei forza amo forza molti dei 5 stelle portiamo a casa oddio mio ce l'abbiamo subito 75 76 77 78 79 80 80 81 81 la singola per farci venire il patema d'anima oh meno male dai amo dai amo almeno cazzo molti del 5 stelle let's go comunque vada è un successo esatto se ne voglio 3 però cazzo 75 76 buona 77 78 79 ecco la siamo c1 siamo c1 troppo contenta è questa è questa è questa è questa questa comunque è la dimostrazione ragazzi che nel mondo i buoni non vincono mai vincono sempre i cessi cattivi di merda come Federica andiamo andiamo dai Arlecchino per favore sono 4 stelle si oddio grazie la abbiamo fatto si il live ci abbiamo fatto il giorno dopo oh puoi dire la dove ti vuoi prima singola di oggi nel banner evento Arlecchino PT1 nel banner evento prima singola di oggi Arlecchino easy grazie Grazie a tutti.